saluti ragazzi e bentornati a questo video finalmente siamo tornati da tantissimo tempo con un nuovissimo video si lo so ragazzi sparisco e torno, sparisco e torno però ero in vacanza e comunque il video di quando sono stato a Palermo uscirà nei prossimi giorni quindi tenetevi aggiornati ma comunque sta di fatto che in questo video vi devo raccontare una cosa che mi è successa una cosa che mi è successa un po' strana e l'avete letto dal titolo e purtroppo è vero se non purtroppo perché così almeno non ci sono contenuti per il canale però beh, allora questa storia accadde dopo che sono tornato a Palermo quindi una settimana dopo quindi due settimane fa e cosa è successo? che io stavo andando in questa città per incontrare il mio amico ok? io lo stavo aspettando così potevamo andare a casa mia a giocare oppure andare in giro no? cazzeggiare un po' mentre stavo aspettando il mio amico che ovviamente è in ritardo perché se non è in ritardo non è il mio amico c'era una ragazza che praticamente sembrava un po' perturbante diciamo che era una ragazza che si vedeva che era malconcia no? e comunque viene da me piangendo e mi inizia a parlare dicendo che praticamente se potevo prestargli il mio cellulare che dovevo chiamare sua madre e suo padre perché il suo fidanzato l'aveva menato menata e non aveva nessuno di cui si poteva fidare e il suo cellulare era scarico e praticamente io vedo questa ragazza che aveva tipo il sangue che gli collava dalla testa vi giuro ragazzi c'era proprio il sangue in fronte no? e praticamente io ovviamente gli ho dato il cellulare dato che sono una brava persona gli ho dato il cellulare e ce l'ho fatta chiamare sua madre e suo padre ma nessuno rispondeva e poi praticamente lei ha detto che doveva tornare a casa e se sapeva tipo se c'erano dei pulmoni in giro che poteva tornare perché lei abitava dall'altra parte del mondo no? quindi io cosa ho fatto? mi sono offerto, gli ho dato 20 euro e gli ho ordinato il taxi perché lei potesse tornare a casa dopo lei era tipo contenta e ha iniziato a chiedermi se io volevo andare a casa sua se potevo andare con lei eccetera se volevo venire a casa sua ho iniziato a dire che sono un bel ragazzo eccetera io ovviamente ho rifiutato e poi nel mentre è arrivato il mio amico è arrivato il mio amico e praticamente lui e lei hanno iniziato a parlare non so di cose ma comunque anche lui gli aveva dato tipo non so 10 euro o qualcosa del genere e niente poi è tornata a casa sua io volevo praticamente chiamare sua madre di nuovo tipo un po' di tempo dopo per vedere se era effettivamente tornata a casa niente dopo un po' di ore sua madre mi chiama e mi chiede chi sono e praticamente gli ho raccontato tutta la storia di quello che era successo e diciamo che lei voleva restituirmi i soldi dicendo, cioè ringraziandomi infinitamente chiedendomi come poteva ricambiare i favori eccetera gli ho detto no no vabbè tranquilla non è un problema l'importante è che lei sia a casa sana e salva e poi mi ha raccontato un po' di lei e ha detto che c'aveva un po' di problemi mentali e che praticamente succedevano queste cose con i suoi fidanzati tante volte perché comunque lei per lavoro faceva la puttana e quindi gli succedeva spesso mi hanno detto comunque sua madre non è per niente come la figlia in senso sua madre è molto molto gentile, educata e comunque è come una persona normale mentre sua figlia non lo era ma comunque sta di fatto che questa storia non so è una storia un po' non so neanche cosa dire cioè è una storia un po' strana però comunque vi volevo raccontare questa piccola storiella perché comunque è una storia diciamo molto molto strana quindi niente se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e vi ricordo che sono tornato attivo quindi iscrivetevi che siamo quasi a 37.000 iscritti non è vero non siamo quasi a 37.000 iscritti però comunque iscrivetevi per arrivare a 37.000 iscritti perché non so è da un anno che non riesco più a salire di iscritti beh sarà forse colpa mia che non faccio i video sì però comunque un piccolo sopportino per favore ve lo chiedo datemi questo piccolo supporto iscrivetevi al canale e niente lasciate like e noi ci rivediamo ad un prossimo video bella ragazzi iscrivetevi al canale